E' stata una dose letale di farmaci oppiacei venduti da Andrea Foglietta, 46 anni pescarese, ad uccidere il 28 settembre dello scorso anno una 25enne pescarese trovata senza vita nella sua abitazione del quartiere Rancitelli del capologo adriatico. Le indagini sono state avviate all'indomani della morte avvenuta, lo ha accertato l'autopsia, per edema polmonare acuto. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pescara, dopo aver rinvenuto e sequestrato a casa della giovane alcuni ritagli di blister di medicinali analgesici, oppioidi molto potenti, hanno pazientemente ricostruito le sue ultime ore di vita, concentrando l'attenzione sui contatti più recenti e scoprendo che la vittima qualche mese prima aveva stretto un rapporto di amicizia proprio con Foglietta sulle chat di Facebook, gli indizi che hanno messo sulla strada giusta gli investigatori. Numerose erano le conversazioni attraverso l'analisi del profilo Facebook e delle chat in esse contenute della ragazza, che spesso i due discutevano di stupefacenti e lo stesso Foglietta si vantava anche di avere nella disponibilità oltre che le classiche, tradizionali e comunque comuni droghe, quali hashish, marijuana e quant'altro, anche di medicinali appunto di derivazione oppiacea. Dai pedinamenti su Foglietta, già noto alle forze dell'ordine, è emersa una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Le cessioni non si limitavano alle più comuni sostanze come hashish e marijuana, ma riguardavano anche numerosi medicinali, molti dei quali oppioidi, usati solitamente per la terapia del dolore. Gli investigatori quindi li hanno confrontati con quelli rinvenuti a casa della vittima e sono riusciti a incastrare l'uomo che è stato posto ai domiciliari. A corroborare l'impianto accusatorio degli investigatori è stato fondamentale l'accertamento tecnico effettuato dal personale dell'arresti di Messina, quindi la sezione chimica e laboratorio di merceologia che ha stabilito con un elevato grado di certezza comparando i ritagli di blister rinvenuti a casa della vittima con i medicinali e le varie scatole analgesici a casa dell'indagato che i medicinali utilizzati dalla vittima e dalla stessa ingeriti, una dose tale da cagionarle comunque un'intossicazione letale, provengono effettivamente da quelli rinvenuti a casa del Foglietta che lui stesso poco prima aveva ceduto.